Presentato a potenza l'innovativo progetto di autoalimentazione con un impianto fotovoltaico della Scala Mobili Santa Lucia, un percorso dei 600 metri che collega il centro alla periferia della città capace di trasportare 9.000 persone in un'ora. I pannelli posti sul tetto della struttura copriranno una superficie complessiva di 1.500 metri quadri e consentiranno una resa di 1.290 kilowattora. Il costo complessivo dell'opera è di circa 500.000 euro ammortizzabili in sette anni. Ci muoveremo non inquinando, ha commentato il sindaco di potenza Vito Santarsiero, è un grande segnale di innovazione e di attenzione alla salvaguardia dell'ambiente abbinata a risparmio nella gestione di un'importante opera pubblica. L'intervento fa parte del programma di risparmio energetico e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili intrapreso dall'amministrazione comunale ed è stato realizzato in collaborazione con l'istituto tecnico industriale statale Einstein di Potenza. Lavorandoci si è veramente realizzata il calcolo che fa comprendere utili economici. Per applicare i pannelli alla struttura è stato realizzato un apposito studio di laboratorio condotto in Giappone per realizzare un adesivo apposito per fissare il rotolo fotovoltaico alla copertura in policarbonato del ponte attrezzato. Questa tecnologia può sfruttare più che la radiazione solare diretta quella diffusa visto che questo ponte non è esposto bene a sud per cui per poter sfruttare la superficie di questa struttura per intero l'utilizzo di questa tecnologia a tripla giunzione ci permette di raccogliere non la radiazione diretta ma quella diffusa.